Per un attacca non si può aspettare tre mesi di tempo. Ci sono stati dei periodi in cui mio marito stava male e ce l'hanno dato dopo tre mesi. Non si può stare sei mesi aspettando una visita. Se uno ha problemi oggi deve andare a pagamento. A Sassari le liste d'attesa per una prestazione sanitaria continuano a essere lunghe. I più fortunati aspettano solo tre mesi. Evidentemente il nuovo servizio del CUP, che da febbraio permette di prenotare esami e visite in qualunque ASL della Sardegna, non riesce a snellire il traffico negli ospedali sassaresi. Ma a cosa sono dovuti i ritardi? La ragione più forte è l'ammodernamento tecnologico che non c'è stato in questi anni. Ci abbiamo macchine che risalgono agli anni 90, macchine che in alcuni casi hanno dei fermi per guasto, proprio per obossolescenza. È evidente quindi che bisogna agire soprattutto dal punto di vista dell'autorazione tecnologica. L'ASL si sta mobilitando per risolvere il problema. Ha già predisposto dei bandi di gara per l'acquisto di un attacco multistrato e per l'installazione di due risonanze magnetiche da 1,5 Tesla. Altra novità per accorciare i tempi d'attesa sarà il day service. Quando la situazione clinica lo permetterà, il paziente potrà essere curato direttamente in ambulatorio, senza ricorrere al ricovero. Questo sarà possibile grazie a un'equip di medici con diverse specializzazioni, che collaboreranno tra di loro. Il day service permetterà ai pazienti affetti da particolari patologie, come i diabetici, di fare in un solo giorno tutti i controlli che richiede la loro malattia, pagando un unico ticket. Se i ritardi e i malfunzionamenti dovessero persistere, il paziente potrà segnalarli all'ufficio relazioni con il pubblico.